Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Angelo e oggi parleremo di un argomento davvero interessante, come rendere un aereo stealth. Nel video precedente abbiamo spiegato che cos'è la radar cross-section, in questo video cercheremo di capire in che modo è possibile ridurla. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un like o un commento qualora il video fosse di vostro gradimento. Seguitemi fino alla fine perché questi sono argomenti abbastanza difficili da trovare su youtube e soprattutto in lingua italiana. Se volete poi anche supportare il canale in descrizione ci sono i metodi con cui è possibile farlo. Ma passiamo subito ai fatti e cerchiamo di capire in che modo un velivolo può essere invisibile ai radar. Invisibile non è la parola corretta, infatti stealth si traduce come furtivo, quindi è più corretto parlare di bassa osservabilità di un velivolo militare, poiché ovviamente non si riesce a renderlo totalmente invisibile. Per rendere l'argomento chiaro e quanto più semplice possibile suddividerò la trattazione in tre macro blocchi. Parleremo innanzitutto dei fenomeni fisici che si hanno quando un'onda elettromagnetica interagisce con un oggetto, un velivolo nel nostro caso. Poi vedremo cosa succede ad un velivolo da combattimento tradizionale, ad esempio l'F16, ed infine vedremo su quali aspetti si può lavorare per rendere un velivolo appunto stealth e analizzeremo molte configurazioni. Iniziamo col dire che quando un'onda elettromagnetica colpisce un oggetto l'energia verrà in parte, in una piccola parte, assorbita dall'oggetto e questo dipende dalle proprietà del materiale con cui è fatto l'oggetto, ma la maggior parte dell'energia viene riflessa nell'ambiente circostante. Ricordandoci quello che abbiamo detto nello scorso video, l'energia che viene riflessa nella direzione del radar quantifica l'osservabilità di un velivolo, quantifica la radar cross-section. I fenomeni fisici che possiamo osservare quando un'onda radar colpisce un bersaglio sono quattro. Possiamo avere riflessione speculare, possiamo avere diffrazione, possiamo avere onde superficiali o meglio in inglese traveling waves e onde che possiamo tradurre avvolgenti ma è meglio dirlo in inglese creeping waves. Il ritorno radar speculare è la forma più importante, più significativa della riflessione dell'onda. Le superfici del velivolo si comportano come uno specchio, quindi un'onda che colpisce una superficie rimbalza e ritorna, proprio come avviene alla luce con uno specchio, ritorna nella direzione opposta. Qualora quest'onda arrivi con una certa angolazione sulla superficie, allora il ritorno avrà una pariangolazione nella direzione contraria. La riflessione speculare non dipende dalla lunghezza d'onda. Facciamo una brevissima precisazione per chi ha meno familiarità con questi argomenti. Un'onda elettromagnetica è caratterizzata da una frequenza e una lunghezza d'onda. Queste due grandezze sono inversamente proporzionali, cioè quanto più è grande la frequenza più è bassa la lunghezza d'onda. La frequenza rappresenta il numero di creste dell'onda presenti in un intervallo di tempo. La lunghezza d'onda invece rappresenta la distanza tra queste due creste. È intuibile quindi che se la lunghezza d'onda aumenta e quindi la distanza tra due creste aumenta, la frequenza diminuisce perché ci saranno meno creste nell'unità di tempo. Viceversa se la lunghezza d'onda diminuisce allora la frequenza è alta perché nella stessa unità di tempo ci saranno più creste. Ok, fatta questa precisazione possiamo continuare. Quindi la riflessione speculare non dipende dalla lunghezza d'onda anche se il raggio riflesso avrà un'apertura, formerà una sorta di lobo la cui apertura dipende dalla lunghezza d'onda. Quindi se l'onda incidente ha un'alta frequenza e quindi una bassa lunghezza d'onda il raggio riflesso avrà un'apertura di questo lobo molto bassa. Quindi diciamo che non c'è dispersione. Mentre se la lunghezza d'onda è più alta, la frequenza quindi è più bassa, il raggio riflesso avrà un'apertura di questo lobo più grande. Il secondo effetto si chiama diffrazione abbiamo detto ed è un fenomeno fisico che non segue le leggi della riflessione speculare. Quando un'onda incontra una superficie appuntita, uno spigolo, un bordo appuntito, l'onda non si riflette ma si ha punto rifrazione, cioè l'onda viene diffusa in tutte le direzioni. Nel caso di onde che investono una superficie sottile in modo quasi parallelo, questa superficie sottile, che può essere ad esempio un pannello nel caso di un velivolo, ha come caratteristica quella di far propagare l'onda attraverso la superficie del pannello. Ecco perché si chiamano traveling waves, onde viaggianti. Viaggiano lungo la superficie del pannello fino a quando, fino a che non incontrano una discontinuità, che può essere, non so, una rivettatura, oppure può essere il gap che c'è tra l'ala e l'alettone. E in corrispondenza di queste discontinuità si ha diffrazione. Anche se non ci fossero discontinuità comunque, quando l'onda arriva alla fine del pannello, essa viene riflessa all'indietro, quindi viaggia in direzione apposta fino a ritornare nella direzione iniziale. Quelle che ho chiamato invece creeping waves sono una specie di onde di superficie che si originano però quando la superficie presenta un raggio di curvatura. Quindi l'onda investe una superficie tubolare, mettiamo, e questa tende a, appunto, incurvarsi, seguire la curvatura della superficie e tornare indietro. Bene, ora che abbiamo visto i quattro fenomeni fisici che si presentano ogni qualvolta un'onda interagisce con un oggetto, con un oggetto complesso, ovviamente, quale può essere un aereo militare, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede, per esempio, nel caso dell'F-16. L'F-16 non è un aereo propriamente stealth, ha una sua radar cross-section che può essere più bassa di alcuni velivoli, più alta rispetto a altri, ma non è propriamente un aereo a bassa osservabilità. Cerchiamo di capire perché, alla luce di quanto visto finora. Abbiamo detto che il contributo più importante è dato dalla riflessione speculare. A seconda di come le superfici riflettenti sono orientate, l'onda che si riflette in modo speculare potrà tornare indietro verso la sorgente, quindi verso il radar, oppure può essere riflessa in direzioni meno prioritarie. Nel caso dell'F-16 vediamo, ad esempio, che ha un timone di coda singolo e che forma un angolo di 90 gradi con la fusoliera. Allo stesso modo presenta dei piloni subalari che anch'essi formano degli angoli di 90 gradi con l'ala. Bene, le superfici che formano angoli di 90 gradi sono i più grandi riflettori che si possano avere, in quanto con un angolo retto l'onda rimbalza in modo tale da ritornare esattamente nella direzione dalla quale il segnale è arrivato. Quindi ai fini della bassa osservabilità bisogna evitare categoricamente elementi che formano angoli di 90 gradi. Sempre parlando di riflessione speculare, altri elementi che concorrono molto ad inalzare la radar cross-section sono le cosiddette cavità. Le cavità le troviamo principalmente nelle prese d'aria e nel cockpit. Nel caso di un'onda elettromagnetica che entra all'interno di una presa d'aria, lo vedremo meglio tra poco, ma in generale essa sarà soggetta a una serie di riflessi speculari all'interno della presa d'aria, tale per cui questi rimbalzi faranno uscire l'onda elettromagnetica ovviamente nella direzione in cui entrate, quindi nella direzione del radar. Ripeto, adesso vedremo meglio la trattazione sulla presa d'aria. Limitiamoci per ora a vedere su un velivolo convenzionale che cosa succede. Come dicevo anche il cockpit è considerato una cavità, in quanto essendo una superficie trasparente, l'onda elettromagnetica entra all'interno del cockpit, inizia a rimbalzare su tutti gli oggetti presenti nel cockpit, quindi la struttura stessa del velivolo interna, la strumentazione, il pilota. Quindi si ha questa serie di rimbalzi speculari fino a che l'onda ritorna indietro. Quindi anche in questo caso bisognerà adottare delle soluzioni abbastanza difficili per fare in modo che l'onda non entri all'interno del cockpit. Ancora la riflessione speculari abbiamo all'interno del radar del velivolo e ovviamente il muso del velivolo deve essere fatto di un materiale tra virgolette trasparente alle radiazioni e anche qui inizia a rimbalzare all'impazzata sull'antenna stessa e sull'apparecchiatura del radar sulla parte anteriore in pratica del velivolo. E anche questo è un elemento molto critico che è su cui bisogna lavorare tanto per abbassare la radar cross-section nel caso di Aerostelt. Passiamo invece alla diffrazione nel caso di un velivolo convenzionale come l'F-16. Abbiamo detto che la diffrazione si ha su oggetti appuntiti, su spigoli, su bordi e in effetti un'onda elettromagnetica che investe un velivolo di questo tipo incontrerà la punta del muso. In caso di altri velivoli, ad esempio il tubo di Pitot, comunque tutti oggetti appuntiti che sporgono dalla superficie, sono sorgenti di diffrazione. Quindi in questi punti si ha una diffusione in tutte le direzioni dell'onda elettromagnetica, con ovvie conseguenze per la radar cross-section. Allo stesso modo la diffrazione si avrà lungo le estremità alare dei piani di coda, della deriva, sulla punta di eventuali missili o serbatoi esterni e anche sul bordo d'attacco dell'ala. In questo caso però facciamo un'ulteriore precisazione. Quando un'onda elettromagnetica colpisce un oggetto con una forma acuneo, quale appunto può essere il bordo d'attacco di un'ala, a seconda di come è l'angolo di incidenza di quest'onda, si hanno degli effetti leggermente diversi. Infatti nel caso di un'onda perpendicolare con il bordo d'attacco si ha diffrazione, così come l'abbiamo vista finora. Ma se l'angolo con cui l'onda elettromagnetica investe il bordo d'attacco è quasi nullo, quindi l'onda è quasi parallela al bordo d'attacco dell'ala, allora quest'onda si diffonderà seguendo una forma conica. E questo cono è chiamato Keller-Cone. Nel caso di traveling waves, onde di superficie lo stavamo già vedendo un po' prima, cioè quando l'onda investe un pannello, una superficie molto sottile con un angolo quasi nullo, quest'onda si propaga sul pannello fino a che non incontra una discontinuità. Quindi su un velivolo convenzionale, la cui struttura proprio è fatta da una serie di pannelli, quest'onda si diffonderà, si propagherà lungo questi pannelli e ogni volta che incontra una discontinuità, anche se piccola, allora lì ci sarà una sorgente di diffrazione. Oppure se dovesse non esserci nessuna discontinuità, una volta che l'onda raggiunge il bordo di fuga, quindi il trailing edge dell'ala, ad esempio se investe l'ala, allora quest'onda torna indietro nella direzione del radar. Lo stesso per esempio avviene lungo la fusoliera. Nel caso dell'F16 un'onda di riflessione può avvenire lungo la parte iniziale della fusoliera e una delle discontinuità, per esempio, può essere il cannone e in quel caso si ha diffrazione. E infine le creeping waves, che sono quelle onde che tendono a seguire il raggio di curvatura di una superficie non planare, le possiamo incontrare appunto lungo la fusoliera. Tutti quei velivoli che hanno una fusoliera molto arrotondata tendono a generare questo effetto. O in modo analogo, eventuali missili, eventuali serbatoi esterni su balari danno origine a questo fenomeno. Arriviamo finalmente a capire quali sono i metodi per impedire che quest'onda elettromagnetica riflessa possa tornare indietro verso la sorgente del radar. Se vi ricordate cosa ho detto all'inizio del video, ovvero che un'onda elettromagnetica che incontra, che investe un bersaglio, verrà per una parte assorbita e per la maggior parte riflessa, allora possiamo sfruttare questi due effetti per ridurre la riflessione nella direzione del radar. Ovvero cercare di indirizzare queste onde riflesse in direzioni meno prioritarie, oppure cercare di utilizzare dei materiali che possano assorbire gran parte dell'energia. Nei velivoli moderni da combattimento ovviamente si utilizzano entrambe le tecniche. Questo perché? Perché agendo soltanto sulla modellazione delle superfici e quindi cercando di far riflettere l'onda in direzioni secondarie, è vero abbassa di tantissimo la radar cross-section, ma ci saranno per forza di cose delle discontinuità, dei punti in cui l'onda si diffonde in modo disordinato. D'altra parte non possiamo soltanto utilizzare materiali radar assorbenti perché innanzitutto non esiste un materiale ideale, perfetto, per assorbire il 100% della radiazione. Uno. Due. Se assorbi una radiazione dovrai convertirla in un'altra forma di energia, in questo caso si parla di calore. Faccio giusto una precisazione, poiché l'argomento è davvero lungo e anche complicato, in questo video parleremo soltanto della radiazione elettromagnetica, parlerò in un altro video della radiazione infrarossa. E infine perché i materiali radar assorbenti aggiungono soltanto peso, complessità, costo, senza dare un contributo alla rigidezza o comunque un qualsiasi contributo strutturale al velivolo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo con il primo dei due metodi con cui è possibile appunto abbassare la radar cross section. Quella cioè di indirizzare la riflessione del radar lontano da dove si pensa che ci sia appunto il radar nemico. Per far questo, come abbiamo detto all'inizio, la prima cosa da fare è evitare superficie a 90 gradi. Quindi ad esempio non è possibile avere un aerostealth che abbia un solo timone di coda o due timoni di coda verticali, come nel caso dell'F15. Bisogna cercare di o non avere proprio derive, come nel caso del B2, o se si vogliono avere delle derive per aumentare ovviamente la manovrabilità del velivolo, allora queste derive devono essere appunto due e devono essere inclinate o verso l'esterno, come nel caso dell'F22, come nel caso dell'F35, o verso l'interno, come nel caso del SR-71. Un velivolo stealth inoltre dovrà assolutamente evitare di portare armamento esterno, proprio non dovrà avere i piloni, quindi non deve proprio prevedere la possibilità di portare armamento esterno. Anche se ci sono poi anche lì dei metodi con cui è possibile disegnare questi piloni per abbassare la radar cross-section. Continuando a parlare della capacità di riflettere il segnale in direzioni secondarie, dobbiamo sottolineare il fatto che ovviamente non possiamo eliminare questa riflessione. Quello che i velivoli stealth fanno, come per esempio il B2, è quello di sacrificare due direzioni in cui concentri tanto segnale piuttosto che emettere appunto un segnale riflesso in tutte le direzioni. Ovvio poi che se il radar andrà a beccare quell'unica direzione in cui sto emettendo il segnale, allora sarò ovviamente visibile. Tuttavia questo spesso non è sufficiente a un radar nemico per individuare un bersaglio, in quanto se individua quell'unica direzione lungo la quale stiamo emettendo radiazioni, lo sarà per un basso periodo di tempo, perché magari stiamo manovrando, perché abbiamo fatto una determinata azione e allora il radar troverà questo forte segnale, ma sarà un segnale troppo breve per poterlo seguire e sparare un missile contro. A questo proposito bisogna sottolineare che per raggiungere questo intento, cioè quello di riflettere tanto segnale in sole due direzioni molto ristrette, quello che si fa è utilizzare tante linee parallele. Vediamo l'F35, l'F22 e soprattutto il B2. Come potete vedere questa forma così strana altro non è che il susseguirsi di linee parallele in due direzioni che avranno il compito, come abbiamo detto, di indirezzare il segnale in quelle direzioni appunto. Tuttavia se ci pensate, questa forma così seghettata, che troviamo sul B2, è una forma familiare. Osservando ad esempio l'F22, notiamo che lungo la superficie ci sono alcuni pannelli che hanno questa forma, questa forma seghettata. Cerchiamo di capire perché. Innanzitutto vediamo che la superficie di un velivolo di quinta generazione, Stealth, ci appare molto liscia. Sembra che sia un'unica superficie che non sia composta da pannelli. Come abbiamo visto finora le traveling waves sono molto pericolose perché possono distruggere totalmente tutto ciò che si è fatto per rendere un velivolo Stealth se una piccola discontinuità è presente lungo la superficie lungo la quale appunto l'onda si sta propagando. E badate bene che queste discontinuità possono anche essere quasi invisibili ad occhio nudo, possono essere la separazione tra due pannelli. Quindi se si vuole avere un Aerostealth questo è un passaggio fondamentale. Bisogna riempire tutti quei gap con particolari vernici, con materiale radar assorbente, in modo tale che appunto la superficie sembri quanto più continua possibile. Notiamo appunto però che in alcuni casi ci sono dei pannelli e hanno questa forma seghettata che appunto ricorda quella vista sul B2. Perché? Se proprio non si può evitare di avere un pannello con un certo gap intorno allora questo pannello lo ottimizzo e quindi lo realizzo con questa forma particolare in modo tale che le onde che entrano sul pannello abbiamo detto che continuano fino a che il pannello finisce quindi arrivano sull'altro bordo del pannello e vengono riflesse. Ma quando arrivano sul bordo, proprio perché presenta questa forma seghettata, allora verrà riflesso non nella direzione con cui è entrato ma in due direzioni diverse. Ma oltre a questo ricordatevi che cosa abbiamo detto a proposito degli spigoli. Se quest'onda che colpisce questo pannello non è perpendicolare ma ha un certo angolo ed è quasi parallela al bordo, allora abbiamo visto che si sviluppa una diffrazione secondo una forma conica. Abbiamo in pratica il Keller-Con. Quello che non vi ho detto è che l'intensità di questo Keller-Con e quindi l'intensità di quest'onda diffusa, secondo questa geometria, aumenta all'aumentare della lunghezza del bordo. Se vogliamo ridurre questo effetto allora dobbiamo rendere il bordo di questo pannello quanto più corto possibile. Come possiamo fare se non accorciare la larghezza del pannello? Appunto adottare questa forma seghettata. In questo modo il bordo del pannello che se fosse rettilineo avrebbe una certa lunghezza viene spezzettato lungo tanti piccoli bordi e quindi si ha anziché un unico Keller-Con lungo il bordo del pannello abbiamo tanti piccoli Keller-Con ma di bassa intensità in quanto la lunghezza di questi bordini è piccola. Per quanto riguarda invece il bordo attacco e il bordo di fuga dell'ala ovviamente per ridurre il Keller-Con o comunque la diffrazione non possiamo rendere il bordo seghettato. Bisogna inventarsi un'altra soluzione. Per ridurre questo effetto uno dei metodi comunemente utilizzati è quello di applicare una striscia di materiale con una certa variazione graduale di resistenza elettrica. In particolare questa striscia che viene applicata sarà fatta da un materiale che ha un'alta resistenza elettrica sul bordo anteriore e una resistenza pari a zero sul bordo posteriore. Quindi l'onda che entra, la traveling waves che investe la superficie all'are colpirà innanzitutto questa striscia resistiva ma transiterà lentamente lungo la superficie allare in quanto vedrà una variazione graduale di resistenza elettrica e quindi viene dato tempo all'onda di essere assorbita. Lo stesso effetto si può avere ad esempio con materiali radar assorbenti. L'importante appunto è dare il tempo all'onda che entra di essere assorbita, non passare velocemente lungo la superficie allare. Allo stesso modo si può applicare una striscia di materiale con una certa resistenza sul bordo d'uscita dell'ala in modo tale anche qui di non dare tempo all'onda elettromagnetica di rimbalzare sulla fine del pannello, in questo caso sul bordo d'uscita dell'ala, ma anche in questo caso venire assorbita. L'applicazione di queste strisce resistive la si vede molto chiaramente su alcuni velivoli quando si nota una particolare colorazione che è diversa appunto lungo i bordi dell'ala oppure laddove si applicano queste soluzioni. Vediamo a questo punto due elementi che avevamo accennato all'inizio, ovvero la presa d'aria e il canopy. Per quanto riguarda la presa d'aria bisogna dire innanzitutto che essa su un velivolo stealth deve avere una forma a esse. Questo per due motivi. Innanzitutto in questo modo si nasconde la faccia del motore, del compressore, che comunque è formata da elementi in movimento che possono essere rilevati da specifici radar, ad esempio radar Doppler. Quindi il fatto di avere una superficie curva aiuta nel mascherare le palette del compressore, ma lo scopo principale ovviamente è quello di fare in modo che l'energia riflessa sia bassa. Vediamo il motivo. Iniziamo col dire che per quanto riguarda la presa d'aria l'energia riflessa dipende dalla lunghezza d'onda e quindi dalla frequenza dell'onda elettromagnetica. Imitandoci al caso di nostro interesse parleremo di onde a bassa frequenza facendo riferimento a quelle onde che hanno una lunghezza d'onda di circa 30 centimetri. In questo caso l'onda non riesce ad entrare all'interno della presa d'aria ma rimbalzerà sulla superficie esterna, sulla carrenatura esterna. È importante, come dicevamo all'inizio, evitare l'utilizzo di angoli a 90 gradi, quindi anche l'ingresso della presa d'aria dovrà essere inclinato in modo tale che l'onda venga riflessa in una direzione secondaria. Se aumentiamo la frequenza e abbiamo una lunghezza d'onda di circa 10-20 centimetri, in questo caso l'onda riesce ad entrare all'interno della presa d'aria ma non riesce a rimbalzare all'interno. Diciamo che seguirà il condotto come se il condotto stesso fosse una linea guida. Essa raggiungerà il blocker che è un elemento posto a monte del fan, del compressore. Serve per guidare il flusso all'interno del motore ma allo stesso tempo ha il compito di smorzare l'energia dell'onda elettromagnetica. In questo caso quindi con onde, con questo tipo di lunghezza d'onda, arrivati al blocker non hanno abbastanza energia per tornare indietro. O meglio, solo una piccola parte di questa energia sarà riflessa all'indietro ma utilizzando materiale radar assorbente all'interno della presa d'aria possiamo fare in modo che l'energia che esce dalla presa d'aria di una presa d'aria di questo tipo sia veramente basso. Se aumentiamo però ancora la frequenza e quindi abbiamo onde molto corte, parliamo di circa 3 centimetri in questo caso, l'onda ovviamente riesce ad entrare nella presa d'aria e anche abbastanza energia per rimbalzare contro le pareti della presa d'aria. Queste onde arriveranno fino al blocker, che abbiamo detto essere una sorta di guida per il flusso che entra nel compressore e badate bene che queste onde che rimbalzano, onde corte che rimbalzano all'interno di un grande condotto, non è detto che siano in grado di rimbalzare all'interno di un condotto più piccolo all'interno appunto di questo blocker. Anzi, all'interno di questi condotti più piccoli si comporta come si comportava l'onda a medie frequenze. Tuttavia però, come abbiamo visto, rimbalzando tutti questi rimbalzi possono tornare indietro e anche qui bisogna utilizzare dei materiali radar assorbenti per fare in modo che ad ogni rimbalzo l'onda elettromagnetica perda energia. Se si vuole ulteriormente eliminare il ritorno radar della presa d'aria e del motore, la soluzione ottimale adottata in effetti dal B2 e dall'F117 è quella di posizionare i motori sulla parte superiore della fusoliera. In questo modo il radar nemico ha più difficoltà a individuare gli elementi che sono coperti dalla struttura. Questo perché una delle parti più esposte di un velivolo è la superficie inferiore. Attenzione però che questa soluzione non può essere adottata per quei velivoli caccia, appunto l'F22, l'F35 eccetera, che hanno necessità anche di manovrare ad alti angoli d'attacco. In questi velivoli posizionare i motori sulla parte superiore della fusoliera non permetterebbe al flusso di entrare al loro interno qualora decidessero appunto di effettuare manovre ad elevati angoli d'attacco. Che cosa succede al Kenopy invece? Il Kenopy abbiamo detto essere un elemento trasparente, quindi l'onda entra all'interno del Kenopy e inizia a rimbalzare all'impazzata al suo interno. Quello che possiamo fare è cercare di rendere il Kenopy un elemento metallico in modo tale che l'onda venga riflessa anziché entrare all'interno. Come possiamo fare? Allora si riveste tutto il Kenopy con un sottile, sottilissimo strato di oro e in questo modo si rende la superficie del Kenopy una superficie metallica e però questo come abbiamo visto creerebbe una fonte di diffusione dell'onda sia perché si avrebbe riflessione speculare sia perché avendo una forma arrotondata ci sarebbero anche creeping waves, quelle onde che seguono il raggio di curvatura della superficie. Quindi che cosa possiamo fare per limitare questa riflessione dell'onda? Allora possiamo rivestire l'esterno del Kenopy con materiale radar assorbente trasparente. Esistono dei materiali con questa caratteristica, hanno però lo svantaggio di essere efficaci soltanto ad una determinata lunghezza d'onda. Quindi se vogliamo rendere il nostro Kenopy stealth a diverse lunghezze d'onda quello che bisognerà fare è ricoprire appunto il Kenopy di vari strati di materiale radar assorbente trasparente, ognuno progettato per funzionare ad una determinata lunghezza d'onda. Allo stesso modo del Kenopy anche il muso del velivolo che contiene il radar è un elemento critico. Gli accorgimenti da utilizzare in questo caso sono quelli di, nel caso di radar tradizionali, magari di farlo ruotare in modo che l'eventuale riflessione di un radar nemico sia in un'altra direzione e non nella direzione dalla quale è stato colpito. Nel caso invece di antenne di tipo ESA, attive o passive, le singole matrici di antenne vengono direzionate o verso l'alto o verso il basso, anche in questo caso in modo che la riflessione avvenga in un'altra direzione. Si può evitare anche la diffrazione che si ha lungo i bordi del radar, dove appunto c'è la struttura che tiene il radar e appunto si utilizza materiale radar assorbente lungo il bordo di questa struttura. Come potete capire quindi gli accorgimenti da adottare sono tantissimi e basta davvero poco per innalzare di tantissimo la radar cross section di un velivolo. Tuttavia, come avevo anche sottolineato, nel caso di una rete radar nemica più complessa, costituita da appunto non da un solo radar monostatico, si chiama in quel caso, che trasmette e riceve, ma se appunto c'è una rete di radar che ognuno può trasmettere e magari l'altro ricevere, è più facile che, anche se adottiamo delle soluzioni geometriche per rendere il velivolo stealth, ciò non basti. Ecco perché i materiali radar assorbenti ultimamente hanno davvero una grande importanza. Ma come funzionano questi materiali radar assorbenti? Innanzitutto diciamo che il compito di un materiale RAM, Radar Absorbent Material, è quello di abbassare il coefficiente di riflessione di una superficie e farlo in un intervallo quanto più grande possibile di frequenze. Senza entrare troppo nel tecnicismo, qui ci sarebbero delle formule abbastanza complicate che entrano in gioco, possiamo dire, semplificando la trattazione, che l'indice di riflessione di cui abbiamo parlato dipende dall'angolo con cui il segnale investe la superficie e dall'impedenza. Attroduciamo soltanto questa piccola formula. La permettività è una proprietà del campo elettrico e corrisponde alla capacità di un materiale di assorbire appunto il campo elettrico. La permeabilità, invece, è una proprietà del campo magnetico e un indice di quanto il materiale è in grado di assorbire il campo magnetico. Ricordiamoci a tal proposito che un'onda elettromagnetica, si chiama proprio così, è composta da un campo elettrico e un campo magnetico che sono perpendicolari tra loro e viaggiano lungo una direzione perpendicolare ad essi. Quindi quando un'onda elettromagnetica viaggia nell'aria, l'aria che è un materiale avrà una sua permittività e una sua permeabilità. Cioè avrà una propria caratteristica, tendenza ad assorbire campo elettrico e ad assorbire campo magnetico. Quando poi l'onda entra in un altro materiale, questo materiale avrà una propria permittività e una propria permeabilità. Quindi l'impedenza che abbiamo appena definito, definisce un po' la capacità di un'onda di propagarsi nel materiale. Ok, ora che abbiamo fatto questa breve e semplificata introduzione, ritorniamo al coefficiente di riflessione che abbiamo introdotto prima. E questo è un po' più intuitivo da capire, cioè è proporzionale all'intensità della riflessione. Un materiale radar assorbente dovrà avere ovviamente un coefficiente di riflessione nullo, nel caso di materiale ideale. Come si relaziona il coefficiente di riflessione all'impedenza, o meglio alle impedenze dei materiali? Allora r è uguale all'impedenza del materiale con cui è fatto il velivolo, diciamo così, meno l'impedenza dell'aria diviso la somma delle due impedenze. L'impedenza dell'aria è un valore noto, è 377 Ohm. Affinché questo coefficiente di riflessione sia zero, il materiale con cui è fatto il velivolo dovrebbe avere un'impedenza uguale a quella dell'aria, perché così il numeratore sarebbe zero e il coefficiente di riflessione sarebbe zero. Ma non esiste un materiale con queste caratteristiche. Anzi, se facciamo riferimento alle impedenze dei materiali metallici con cui sono fatti i velivoli, questi materiali hanno delle impedenze bassissime, tendenti a zero. Quindi per limitare la riflessione dell'onda, avere un coefficiente di riflessione prossimo allo zero, dobbiamo utilizzare dei materiali, appunto RAM, radar assorbenti, in aggiunta al materiale con cui è fatto il velivolo, il metallo. Quindi avremo una situazione di questo tipo. L'aria, il materiale RAM e il materiale metallico. E come detto all'inizio, questo materiale intermedio dovrà avere un'impedenza molto simile a quella dell'aria, affinché il coefficiente di riflessione sia nullo o comunque molto basso. Generalmente quindi i materiali RAM sono costituiti da una matrice di materiale polimerico all'interno del quale sono presenti delle particelle di carbonio o ferrite. Se si sceglie di utilizzare il carbonio, avremo dei materiali radar assorbenti dielettrici. Se invece si sceglie di utilizzare la ferrite, si avranno dei materiali radar assorbenti magnetici. In realtà nel caso di materiali radar assorbenti dielettrici, quindi quando è presente del carbonio, generalmente il valore di impedenza non è molto simile a quello dell'aria. E quindi si utilizzano vari strati di materiale, ognuno con un'impedenza sempre più alta, fino a creare un gradiente di impedenza che ha il duplice beneficio, cioè avere un'impedenza molto simile a quella dell'aria all'inizio e poi avere una riduzione graduale che dà tempo appunto, come abbiamo detto, all'onda di essere assorbita. Come si fa ad aumentare l'impedenza del materiale radar assorbente dielettrico di ogni strato? Gli si aumenta la percentuale di carbonio al proprio interno. Nel caso invece di materiali radar assorbenti magnetici, in cui è presente la ferrite, essi hanno il problema di non funzionare bene ad alte frequenze. Quindi spesso sono utilizzati materiali dielettrici, anche se bisogna, come abbiamo visto aumentare gli strati. Infine abbiamo dei materiali assorbenti geometrici, fatti come quelli che state vedendo in figura. In questo modo, ad alte frequenze, le onde rimbalzano all'interno di queste fessure piramidali e a ogni rimbalzo perdono energia fino a esaurirsi quando arrivano nel vertice di questa piramide. A basse frequenze invece l'onda non è in grado di entrare all'interno di queste fessure, quindi rimbalzare, ma vede il materiale cambiare di proprietà, proprio perché cambia la percentuale di vuoto, diciamo, rispetto a percentuale di materiale, man mano che l'onda aumenta. Come abbiamo detto, questi materiali vengono utilizzati soltanto in alcune parti perché hanno un costo elevato, hanno bisogno di tantissima manutenzione, aggiungono tanto peso al velivolo senza dare nessun tipo di beneficio strutturale, quindi come abbiamo visto vengono utilizzati soltanto laddove non è possibile fare altrimenti per evitare che l'onda rimbalzi e ritorni verso la sorgente. Come avete visto in questo video non sono riuscito a parlare della radiazione infrarossa perché altrimenti sarebbe diventato lunghissimo. Lo farò in un video dedicato. Ditemi voi se nel prossimo video preferite che parli appunto della radiazione infrarossa o, come avevo preannunciato, dei radar antistelt, delle tecnologie che hanno la potenzialità di individuare velivoli stelt. Comunque li farò entrambi i video. Ditemi voi quale preferite vedere prima. Scrivetemelo nei commenti. Con questo io concludo questo argomento che a mio avviso è stato interessantissimo. Spero di aver trasmesso la passione con cui ho studiato questi argomenti perché ho dovuto riprenderli, studiarli, approfondirli e sintetizzarli. Quindi spero vivamente di essere riuscito nell'intento di trasmettervi l'entusiasmo che avevo nello studiare questo argomento. È stato comunque faticoso perché è lungo, complesso e quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a tutti voi per il supporto che mi date. Noi ci vediamo nel prossimo video. Vi saluto, buona serata, ciao!